Io credo che in questa fase bisogna, in tutti i modi, la mattina quando si si sveglia e la sera quando si va a letto, ricordare a se stessi le grandi ragioni storiche ed economiche per cui è nato il governo Monti. Evitare il fallimento del Paese. Di fronte a questo non c'è interesse di partito che possa divergere. La convenienza dei partiti non può che essere la convenienza dell'Italia, dell'interesse nazionale. Quindi bisogna collaborare senza capricci con questo governo perché sono troppo importanti le ragioni della sua nascita e della sua vita. Bisogna mandare avanti l'iniziativa di questo governo fino al 2013. Naturalmente la cosa che si può dire oggi è che non sembra che basti un anno per riportare l'Italia veramente tra i primi posti delle economie mondiali. Quindi i partiti che avrebbero potuto partecipare al governo, noi eravamo d'accordo già adesso, e devono sapere che questo obiettivo di salvare l'Italia non è un obiettivo che si servisce in pochi mesi. Questo è il progetto, questo è il traguardo. Dopo le questioni di alleanze sono secondarie, sono assolutamente secondarie rispetto agli interessi dei cittadini.